Il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad alcune nuove nomine e trasferimenti inerenti ai dirigenti superiori dell'amministrazione del Ministero dell'Interno. Trasferita a Cosenza dopo oltre quattro anni trascorsi a Benevento il prefetto Paola Galeone, 56 anni di Taranto. Per la dottoressa Galeone si tratta di un ritorno nella città calabrese, dove aveva già operato come vicario dal 2008 al 2010. Per la prefettura della sesta provincia pugliese, Barletta Andrea Trani, è stato designato il dottore Emilio Dario Sensi, nominato prefetto il 27 gennaio 2017, che cessa dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico di rappresentante del Governo per la Regione Sardegna. La dottoressa Maria Antonietta Cerniglia, insediatasi il 20 novembre 2017, dalla BAT andrà a ricoprire il ruolo di prefetto nella provincia di Enna, in Sicilia. Sensi ha rivestito diverse volte il ruolo di commissario straordinario in molti comuni e a Frosinone, a Potenza, è stato anche viceprefetto vicario.